Buongiorno a tutti, sono Matteo Lanzi, sono attualmente postdoc presso il CNRS di Strasburgo nel gruppo Lima con la professoressa Francesca Lobert e la dottoressa Johanna Wessel de Lorne. Quest'oggi vi presenterò l'articolo dal titolo Visible Light Promoted Polycyclization of Diamonds pubblicato nel 2019 sulla prestigiosa rivista Angivante Chimie e selezionato dalla Società Chimica Italiana Gruppo Giovani come finalista per il premio Primo Levi 2019. Nel 2019 ero dottorando presso l'Università degli Studi di Parma. Il lavoro rientra nell'ambito della fotocatalisi, cioè quella branca della chimica che studia le reazioni promosse dalla luce. In natura possiamo osservare molteplici esempi di reazioni fotochimiche, tra le quali la fotosintesi, dove la luce solare permette la sintesi di molecole complesse quali gli zuccheri a partire da CO2 e acqua. Un altro esempio che la natura ci offre per costruire un'elevata complessità molecolare è la ciclizzazione dell'oxosqualene per la sintesi del tetraciclo condensato all'anosterolo. Questa reazione è catalizzata da un enzima della classe dell'isomerasi, il quale è in grado di controllare la formazione di quattro nuovi legami carbonio-carbonio e sei centri chirali. Il rinnovato interesse della comunità scientifica per la fotocatalisi è dovuto principalmente al recente sviluppo di semplici molecole di natura organica e organometallica capaci di assorbire la luce visibile e di trasferire parte di tale energia a piccole molecole. Il complesso organometallico di iridio, ad esempio, è in grado di assorbire la luce visibile, attraverso la quale un elettrone dello stato fondamentale è promosso allo stato eccitato a più alta energia. Il complesso nello stato eccitato è quindi in grado di attivare il substrato organico in due differenti modalità, attraverso un processo fotoredox, cioè di ossidazione o riduzione del composto organico, oppure attraverso un meccanismo di trasferimento di energia, dove un elettrone del substrato, dallo stato fondamentale, è promosso allo stato eccitato. Il progetto da noi sviluppato nasce dalla combinazione della mia esperienza nel campo delle ciclosomerizzazioni e della fotocatalisi. La reazione di policiclizzazione del dianino lineare 1 avviene in presenza del catalizzatore di iridio, il quale, irraggiato con luce visibile, ha permesso la formazione di due nuovi prodotti. Il prodotto 2 è un tetraciclo contenente due subunità bicicliche 3-1-0, dove il rirrangiamento degli elettronipi greco porta alla formazione di quattro nuovi legami carbonio-carbonio e sei centri stereogenici contigui. Il composto 3 è un triciclo condensato, nel quale vi sono tre nuovi legami carbonio-carbonio e quattro centri stereogenici. Le strutture di tali composti sono state confermate attraverso raggi X a cristallo singolo. Diamo ora uno sguardo al particolare setup del nostro esperimento. Lo studio delle condizioni ottimali ci ha portato a condurre le reazioni all'interno di tubini solitamente utilizzati per la spettroscopia NMR. Questo ci ha permesso di massimizzare il numero di fotoni assorbiti dal nostro fotocatalizzatore e di quindi ottenere maggiori performance. Particolarmente interessante è il meccanismo attraverso il quale siamo in grado di ottenere tale complessità molecolare. Studi meccanicistici, infatti, hanno dimostrato che l'attivazione del substrato avviene attraverso un primo energy transfer e successiva ossidazione, ad opera del complesso di iridio, il quale porta alla formazione dell'intermedio radical cationico 2. La reazione con il triplo legame forma il peculiare intermedio 3, il quale è caratterizzato da due specie isonergetiche. La prima, con carattere carbenoide, può reagire col frammento allilico, portando alla formazione del primo biciclo 3-1-0, che in seguito a riduzione e ricombinazione forma il prodotto 2. La seconda specie, con carattere radical cationico dell'intermedio 3, può invece seguire un percorso parallelo e formare l'intermedio 5, che in seguito a riduzione e ricombinazione forma il prodotto 3. Come potete osservare, i prodotti 2 e 3 sono stati isolati con resi a quanto differenti, e questo è giustificato dalla differente stabilità dei corrispondenti intermedi 4 e 5. Di fondamentale importanza è l'aspetto estremamente innovativo di questa reazione, che consiste nella possibilità di generare un intermedio carbenoide a partire da alchini. Vorrei concludere ringraziando la Società Chimica Italiana, e in particolar modo la sezione Giovani, tutti i collaboratori che con me hanno permesso lo sviluppo di questo progetto, il mio supervisor, il professor Giovanni Maestri, e l'Università degli Studi di Parma. Grazie a tutti, un saluto da Strasburgo. Grazie a tutti.